Negli ultimi post pubblicati da Rosalinda Cannavò troviamo un video in cui lei cerca di riprendersi e si trattiene per non ridere. Nel video ha il viso cosparso di crema e cerca di fare la persona seria, ma nel vedersi così conciata, non riesce a trattenersi e inizia a fare tante smorfie. Sotto il video commenta, restauro in atto, ma la seria non riesco a farla. Rosalinda si sente un po' giù e annoiata per via delle restrizioni che hanno limitato i movimenti di tutti. Abbiamo perso ormai molte delle nostre libertà in nome del bene comune e per fermare la brutta pandemia in atto. Una delle cose che più ci mette tristezza è il fatto di non poter più vedere i propri cari e amici. Anche Rosalinda, come noi, si sente provata e annoiata e si sfoga con i suoi fan scrivendo sotto un suo post «Vorrei fosse un weekend normale». È evidente che anche lei con tutte queste nuove restrizioni non abbia più idee su come impegnare il proprio tempo. Così decide di chiedere ai propri fan dei consigli. Vorrei fosse un weekend normale, fatto di uscite con gli amici, abbracci e tanto social. Purtroppo non è così per cui accetto consigli su che fare. Se vi è piaciuto l'articolo mettete un pollice in su. Grazie! Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie e curiosità del momento, iscriviti al canale e attiva la campanella. Grazie! Grazie!